Si è appena concluso il weekend della Superbike in Spagna ad Aragon, prima tappa europea del mondiale e come al solito benvenuti al Racing Podcast dove analizziamo tutto quello che è successo in questi due giorni Ai microfoni Matthew Torgard in sovraimpressione come al solito il circuito protagonista weekend del 6-7 aprile che appunto ha visto protagonista soltanto Superbike, Supersport e la esordiente Supersport 300 di quest'anno sul circuito di Alcagniz ma il copione almeno per quanto riguarda la categoria Superbike non è cambiato 3 gare, 3 vittorie per il numero 19 della Ducati Alvaro Bautista che tra le gare sia gara 1 sia gara sprint sia gara 2 ha preso, ha saltato la compagnia e se ne è andato suggellando un record incredibile 9 vittorie su 9 gare disputate un dominio pressoché totale del ex pilota Ducati MotoGP che sembra veramente il netto dominatore di quest'anno di questa sezione del Superbike dopo il regno di Jonathan Ray è stata comunque una Superbike avvincente al netto che Bautista fa un campionato a parte per la seconda posizione ci sono state tante moto in combattimento, tante moto in lotta e tra poco vediamo chi è che si è giudicato alle altre posizioni del podio vedendo anche la classifica del campionato che, spoiler alert, non è cambiata rispetto alle volte passate Bautista ha dominato in tutto e per tutto anche per quanto riguarda la qualificazione dove ha ottenuto la sua seconda pole position su tre gare disputate e il passo gara più che altro è stato devastante in gara girava nettamente più forte degli altri, un secondo e passa al giro più veloce delle moto che erano in lotta Ray, Lowe's, Aslam e tutti gli altri che tra poco andremo a vedere tanto per darvi un'idea Bautista girava in 50 basso con dei picchi di 49 alto, record ovviamente della pista e tutti gli altri porelli giravano sul 51 andiamo però con il rapido scroll del mouse a verificare la classifica di questa stagione 2019 che per la verità non è che sia tanto diversa dalle altre Bautista ha fatto nove primi, di contro c'è un Jonathan Ray che fa nove volte secondo e tra virgolette limita i danni per queste prime tre gare del campionato una Kawasaki che per la verità si è notata molto in difficoltà e lo vediamo anche nei risultati degli altri piloti perché per esempio in gara 1 e gara 2 Aslam ha fatto non è settimo Jordi Torres ha fatto decimo e ottavo Razgatioglu ha fatto abbastanza male per il suo potenziale ha fatto ottavo decimo e si è ritirato in gara 2 e Mercado si è ritirato, ha avuto un contatto con Alessandro Delbianco e non è nemmeno partito segno che evidentemente la Kawasaki è già in difficoltà le altre moto come la Yamaha per esempio si sono allineate e al netto della Ducati che con Bautista sarà dominante c'è un grandissimo equilibrio tanto è vero che tutti questi secondi posti di Jonathan Ray e tutte le posizioni sul podio sono state di fatto lottate fino all'ultimo giro ed è stato praticamente quello il motivo di interesse per quanto riguarda le tre gare della Superbike di Aragona al Cagniz sorpresa della gara di Aragona quest'uomo che finalmente si è risollevato Chats Davis ha fatto terzo due volte nelle gare lunghe ha fatto quarto in gara sprint segno che questa pista gli piace, gli è più che un geniale ed è tornato sul podio dove lui deve stare dopo due gare in Australia e Thailandia dove ha racimolato molto poco rispetto al potenziale della Ducati che evidentemente con Bautista è enorme nota importante lo vediamo ancora una volta nella BMW con Tom Sykes che pian pianino si sta risollevando per me lui è il miglior driver della giornata perché al netto che Bautista è il netto dominatore Tom Sykes ha una BMW che è depotenziata ha un motore che come ho già detto nello scorso video sulla Superbike si avvicina molto a quello stradale e quindi ha molta meno potenza rispetto a Kawasaki, Yamaha e Ducati e fare due volte quinto con una moto che è inferiore rispetto agli altri è un risultato per me enorme da fargli un grande applauso per cui grandioso Tom Sykes va detto che il quinto posto di gara 1 è dovuto al fatto che questo signore, Eugene Laverty con una Ducati indipendente, una Ducati privata ha fatto una lotta incredibile a momenti stava quasi per arrivare a podio ma nella gara 1 è caduto proprio con un contatto nell'ultimo giro e dunque è arrivato quidicesimo al traguardo si è migliorato tantissimo nelle gare successive dove è arrivato sesto ma la vera rivelazione per me è Tom Sykes il peggior rider, non voglio essere troppo cattivo lo vedo in Marco Melandri perché ha fatto podio sia a Phillip Island ha fatto tante volte sesto la Yamaha è una moto che sta crescendo pian pianino e con l'hows in gara sprint è arrivato anche a podio ma per un pilota che comunque ha fatto carte false per rimanere in superbike fare una prestazione così deludente dopo comunque aver visto di essere in lotta per il podio nelle altre gare effettivamente fa un po' storcere il naso e riflettere dodicesimo e due volte dodicesimo di certo non sono prestazioni da Melandri che per me è la delusione più grande di questa gara di superbike in Spagna apro una veloce partiti su Honda anche Honda potrebbe essere considerata una delusione a differenza delle volte scorse quando si appoggiava al team Tencate che aperta a partiti tornerà già nella gara prossima ad Assen con Loris Batts mentre questo non ci interessa era un team, dicevo, il Tencate clienti evidenti praticamente di Honda che non si era mai impegnato in modo ufficiale nella superbike che si è impegnata quest'anno con due piloti ovvero Leon Chemier e il di fatto collaudatore Ryuichi Chionari ma come vedete i risultati sono abbastanza deludenti le Honda sono sempre in fondo alla classifica considerati che i partiti sono sempre pochi loro occupano sempre le competizioni che vanno dalla 14esima alla 18esima è stato così, almeno così anche per quanto riguarda la gara di Aragon Chionari e Camier erano nelle retrovie e anche il povero Alessandro Delbianco che si ritrova a una moto non competitiva deve fare fatica, deve fare la spola tra l'ultima e la penultima posizione quindi Bautista ancora una volta dominatore già settimana prossima ad Assen potrebbe addirittura fare 12 su 12 se continua così e di fatto battere quello che fu il record anche dello stesso Jonathan Ray che di gara se non sbaglio ne vinse 10 di fila quando dominò in lunga e in largo con la Kawasaki sorpresa grandioso Tom Sykes con la BMW bravissimo anche Eugene Laverty con la Ducati privata la Kawasaki privata fa un'ottima figura anche con Jordi Torres che appunto finisce terzo in gara 2 la seconda gara lunga passiamo velocemente alla Supersport Supersport che ha visto trionfare ancora una volta Randy Krummenacher che è il vincitore di gara di Philippa Island e con questa vittoria torna in testa al campionato una gara veramente spettacolare vinta in volata dal pilota elvetico del team Evan Bross che ha la meglio su quest'altro signore Raffaele De Rosa che corre con una MV ufficiale che finisce secondo e su suo compagno di squadra che è Federico Caricasulo che appunto finisce terzo e fu una volata a 4 questa gara perché la pole position l'ha conquistata Thomas Gradinger pilota giovanissimo austriaco che ha sofferto per la verità la pressione rispetto alla gestione di questa situazione Gradinger non si è mai trovato in posizione di testa e comunque conclude quarto al miglior risultato della carriera classifica della Supersport che appunto vede come ho detto Krumenacher in testa Male Clusel che finisce quinto perde dei punti importanti per il campionato quarto vi dicevo Gradinger e gli altri italiani fanno bene perché appunto De Rosa secondo Caricasulo terzo gli altri italiani velocissimamente per i punti di carriera per Federico Fuligni con la seconda MV Agusta che dunque ha dimostrato una crescita importante ritirato Ayrton Badovini Alfonso Coppola chiude nei venti fa diciannovesimo e qua ci fermiamo anche qui la Kawasaki è in netta difficoltà il migliore è stato Lucas Maia settimo con la Kawasaki del team Puccetti che dominò le gare con Sofoglu segno che la Kawasaki è in crisi è il fatto che l'ufficiale Maia a momenti veniva superato da Kyle Smith che è un pilota inglese che si è iscritto soltanto nelle gare europee e dunque parteciperà appunto soltanto a una parte del campionato il fatto che una Kawasaki comunque privata come quella di Kyle Smith si è andata vicino a battere Maia la dice lungo sul momento di crisi della Kawasaki altra nota per me importantissima ancora una volta strepitosa Maria Herrera che finisce quindicesima ultima pilota punti non è partito Hector Barberai e questa è una notizia abbastanza curiosa a dir poco Hector Barberai di fatto ha avuto la moto sequestrata dalla polizia non si capisce per quale motivo fatto sta che l'ex pilota di MotoGP con Ducati Avinzia soprattutto nelle ultime gare non è partito per questo motivo e dunque dopo un buon quarto e un buon settimo posto Barberai si ritrova 1-0 evidentemente non per cause sue ad Aragon ha corso anche la Super Sport 300 campionato appunto di moto di piccola cilindrata che appunto correrà soltanto delle gare europee più il Qatar dando appunto una valenza mondiale a questa categoria il vincitore della gara della Super Sport 300 è stato questo ragazzo Manuel González il pilota spagnolo del team Parking Go che la vince in volata dopo 11 giri di sofferenza due Kawasaki sul podio perché Scott Deru con l'altra Kawasaki finisce terzo secondo posto per Hugo de Cancelis pilota francese andiamo un'occhiata velocissima alla categoria Super Sport 300 per dare un attimo un'idea di che bordello sia questo campionato come vedete appunto correranno 9 gare tutte le europee più il Qatar Manuel González è il vincitore González appunto ha fatto anche la pole position e qui arriviamo a questa categoria come si sviluppa la qualificazione della 300 e la risposta la vediamo qua vediamo qui in questo caso siamo su Wikipedia italiana che i piloti sono veramente un casino vedete che ci sono 52 piloti iscritti abbiamo tantissimi piloti di varia estrazione soprattutto la campionessa in carica Anna Carrasco prima donna a vincere un titolo mondiale in un qualsiasi sport dal punto di vista motoristico ovviamente abbiamo ex piloti appunto Moto3 come per esempio lo vediamo qui con il numero 95 Scott De Roo abbiamo piloti italiani Bruno Ieraci Kevin Sabatucci Jacopo Facco ci sono anche Omar Bonoli Filippo Rovelli e direi che qua ci fermiamo no perché c'è anche Bando del Bastianelli e anche Kevin Arduini con il numero 11 insieme a tutti altri piloti che provengono dai vari campionati nazionali francesi, spagnoli anche esteri le moto protagoniste sono la Kawasaki Ninja 400 la Yamaha 300 che è l'unica fondamentalmente che sarebbe con la cilindrata che viene rispettata di questa categoria la KTM 390 che è la moto di riferimento perché è quella diciamo più equilibrata anche se non ha vinto in gara ma da regolamento tutte le altre moto sono adattate appunto alla casa austriaca e c'è anche una Honda in pista che però finisce soltanto in fondo alla classifica eccola qui Honda 500 pilotata da Adrien Kinet è un campionato che appunto prevede 52 piloti di cui 4 sono ragazze appunto Anna Carrasco è una poi abbiamo Steffina Hood pilota 28enne francese abbiamo Alexandra Pelicanova col numero 32 e anche Beatriz Neila col numero 36 la qualificazione vi dicevo essendo un casino di piloti fondamentalmente si dividono in due gruppi e i combinati dei due gruppi fanno la classifica ovviamente essendo 52 piloti in pista non possono correre tutti e 52 i migliori 36 vengono appunto ammessi alla gara e poi si corre la gara appunto la vince Manuel Gonzalez davanti a Hugo de Cancellis pilota che corre con il numero 64 scusatemi eccolo qui e appunto davanti all'olandese Scott De Roo con il numero 95 altri per tenere d'occhio ha fatto molto bene l'indonesiano Galang Ghedra Pratama e poi ci sono piloti interessanti Mark Garcia che torna sulla Supersport 300 corre col DS Junior Team ha vinto il campionato del 2017 ai danni proprio italiano Alfonso Coppola e c'è anche Bahatin Sofoglu che è il nipote di quel Canon che tanto ha fatto bene in Supersport 600 risultando il dominatore assoluto quindi con la vittoria di Manuel Gonzalez che lo rivediamo qui in grafica si conclude la prima gara della Supersport 300 Superbike che comunque tornerà in pista con tutte le altre categorie già il 14 aprile settimana prossima ad Assen insieme tra l'altro a un weekend motoristico incredibile perché ci saranno MotoGP in America a Austin Texas e anche Formula 1 in Cina per cui usciranno anche su questo canale tanti video analisi di tutte e tre le categorie ancora una volta per la Superbike complimentoni ad Alvaro Bautista che stravince stradomina anche la gara di Aragon il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo settimana prossima con i video analisi di MotoGP Superbike e Formula 1 per la Grazie a tutti.